Musica Voleva buttarsi nel vuoto ma i carabinieri lo convincono ad esistere Due giorni dopo richiama i militari e annuncia l'intenzione di togliersi la vita 46enne salvato per la seconda volta e era steso sui binari del treno Madre e figlie arrestate a Fano dalla polizia dopo un furto messo a segno al Kingsport La coppia aveva in auto anche vestiti rubati poco prima in un negozio a Pesaro Tappa Fano per il ministro degli esteri Antonio Tajani Candidato alle europee per porre l'Italia al centro della politica comunitaria Il futuro abita qui con questo slogan il candidato sindaco di Fano Cristian Fanesi Ha presentato la coalizione di centro-sinistra e il programma elettorale Tra gli obiettivi la difesa della sanità pubblica e una città più bella, accogliente e inclusiva A Pesaro Fabrizio Riva il quarto candidato sindaco L'albergatore nel fine settimana ha presentato la sua lista civica Spazi Liberi La Smart System Fano espugna il campo della San Donà e vola in Serie 2 Festa anche per la Vispesoro che raggiunge la salvezza nel campionato di calcio di Serie C Stasera su Fano TV un nuovo appuntamento con occhio al voto Ospiti Barbara Brunori, Mattia De Benedittis e Davide Del Vecchio Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Lo avete sentito dai nostri titoli, i carabinieri hanno salvato per ben due volte un 46enne Che ha tentato di togliersi la vita L'uomo, un italiano senza fissa dimora, sabato scorso aveva annunciato l'intenzione di farla finita Lanciandosi nel vuoto dal muraglione attiguo al palazzo ducale della Corte Alta Fossombrone Prima del gesto però aveva chiamato la caserma dei carabinieri A rispondere era stato lo stesso militare che aveva già incontrato il 46enne Il quale alcuni giorni prima aveva manifestato questo disagio Sabato poi, dopo la conversazione telefonica, i carabinieri erano riusciti ad intervenire in tempo Avevano trovato l'uomo in piedi sul muraglione Uno dei militari era riuscito a convincerlo a sedersi e ad esistere Intervenuto al 118, era stato trasportato a muraglia Ieri mattina però, una volta dimesso dall'ospedale, ha telefonato nuovamente l'operatore della centrale operativa Dichiarando di trovarsi sui binari del treno a Fano Mentre l'operatore ha cercato di dissuaderlo, ha allertato la radiomobile Sono seguiti momenti di apprezzione, visto che in stazione non lo trovavano E poco dopo è stato annunciato l'arrivo di un treno in transito I carabinieri hanno iniziato a correre fino a che non hanno trovato il 46enne steso sui binari all'altezza dell'Eurospin Nel frattempo, per fortuna, il convoglio annunciato è passato su un altro binario, il 2 L'uomo è stato preso di forza ed è stato affidato al cuore dei sanitari dell'ospedale Santa Croce Una bella dimostrazione di grande prontezza e professionalità dei carabinieri Nella giornata di sabato, gli agenti del commissariato di Fano hanno svolto una mirata attività di controllo del territorio Finalizzato alla prevenzione di furti negli esercizi commerciali L'operazione, denominata Safe Shop, si concentra soprattutto nella fascia oraria di chiusura delle attività E tramite il monitoraggio e l'analisi del sistema di videosorveglianza cittadino In collaborazione con la polizia locale di Fano, è stata notata un'auto sospetta partita da Pesore Diretta verso la città della Fortuna I poliziotti l'hanno seguita fino al parcheggio del Kingsport di Bellocchi Dove le due persone a bordo, madre e figlia, sono scese per entrare all'interno del negozio Una volta uscite, sono state fermate dai poliziotti Negli zaini avevano diversi capi di abbigliamento appena trafugati Dagli accertamenti, infatti è emerso che le due donne erano specializzate nel compiere furti di vestiti firmati La madre li selezionava, mentre la figlia nei camerini strappava all'antitaccheggio, rovinando anche i capi stessi Inoltre, nell'auto, sono stati rinvenuti altri abiti Erano stati rubati poco prima al Kingsport di Pesaro Il valore complessivo della merce rubata nei due negozi ammonta più di 1000 euro Le due donne, provenienti dall'Abruzzo, conosciute alle forze di polizia per la commissione di numerosi reati contro il patrimonio E per aver colpito in molti centri commerciali della Riviera Marchigiana, sono state arrestate per furto aggravato La figlia anche per esistenza pubblico ufficiale, visto che ha spinto un poliziotto a prendere uno sportello dell'auto Nel tentativo di staccare i cartellini e i vestiti per nascondere le prove Questa mattina gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria Il processo è stato rinviato, intanto per le due donne è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora e di firma a Pescara Apriamo la pagina della politica al ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani In visita a Fanno ha rivitalizzato la campagna elettorale per le europee Prefigurando un importante ruolo dell'Italia in tema di sicurezza internazionale e di sviluppo economico Apprezzato soprattutto l'impegno di sostenere l'agricoltura e la pesca Che sono ancora oggi due importanti settori dell'economia locale Massimo Fughetti Dopo aver fatto tappa in altre località delle Marche Intorno alle 17.30 di domenica scorsa al Pesce Azzurro è arrivato il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, candidato alle elezioni europee insieme al coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Battistoni Ad attenderlo oltre ad un nutrito gruppo di simpatizzanti e il gruppo dirigente di Forza Italia C'era l'assessore regionale Stefano Aguzzi, la candidata alle europee Graziella Ciriaci I sindaci di Urbino, Colli al Metauro, Terre Roveresche, Monbaroccio, Montegrimano, Terme E i candidati sindaci di Fano, Luca Serfilippi e Marco Lanzi di Pesaro Ecco come Tajani ha illustrato l'importanza del prossimo appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno Per far contare di più l'Italia in Europa l'unico voto utile è quello per Forza Italia Perché siamo parte del Partito Popolare Europeo Il Partito Popolare Europeo è quello che dà le carte in Europa Quindi se vogliamo far contare di più l'Italia abbiamo bisogno di una Forza Italia più forte all'interno del Partito Popolare Europeo Poi naturalmente siamo una forza seria, credibile, affidabile, assicurabile, rassicurante E chi vuole occupare lo spazio che c'è tra Giorgia Meloni e Lischlein Ritiene che l'Italia possa aspirare alla presidenza della Commissione Europea? Noi possiamo sempre aspirare però mi pare difficile perché toccherà il Partito Popolare Europeo Esprimere il Presidente della Commissione Europea Non mi pare che il Partito Popolare Europeo abbia indicato un italiano Ministro, la sicurezza è una delle emergenze nel nostro territorio a livello di ordine pubblico Lei ha una visione molto molto più ampia a livello internazionale Possiamo stare tranquilli? Assolutamente sì, certo serve lavorare per la sicurezza internazionale e per la sicurezza nazionale Serve sempre un maggior controllo del territorio Noi siamo grati alle forze dell'ordine, i carabinieri, i polizia, i guardi di finanze Polizia penitenziaria, Polizia locale per il prezioso lavoro che stanno svolgendo Purtroppo la situazione è sempre molto complicata Abbiamo anche inasprito alcune norme proprio per tutelare le nostre forze dell'ordine Garantire la sicurezza dei cittadini Poi c'è la sicurezza internazionale, la sicurezza dei trasporti Pensiamo anche a quello che stiamo facendo per garantire i trasporti nel Mar Rosso Attraverso il canale di Suez L'Italia è un paese esportatore, il 40% del nostro prodotto interno lordo viene dall'export Quindi anche grazie alla missione militare europea Aspides guidata dall'Italia Dalla nostra marina militare Garantiamo la sicurezza del trasporto marittimo Le Marche sono state sempre un po' al margine dell'attenzione del Governo centrale La sua presenza qui vuol dire che ci sarà più attenzione Ma io sono sempre stato molto attento alle Marche Sono stato per decenni parlamentare europeo anche delle Marche Quindi ho sempre seguito con la massima attenzione i problemi di questo territorio così articolato C'è sempre il problema delle infrastrutture Certo servono investimenti Mi auguro che l'alta velocità possa essere sempre più frequente Bisogna fare un grande lavoro per il porto di Ancuna Che deve permettere alle imprese del territorio di poter esportare di più Con portacontainer più grandi che possono pescare Mentre non possono farlo perché sennò i portacontainer partono da Ancuna Vanno a Giulia Tauro e scaricano su portacontainer più grandi E poi c'è il collegamento trasversale tra il Tirreno e l'Adriatio Che è di fondamentale importanza Dalle europee alle amministrative Il candidato sindaco di Fano Cristian Fanesi Ha presentato la coalizione di centrosinistra e il programma elettorale Stefania Schiaroli Sabato mattina al Cinemateatro Politeama di Fano Il candidato sindaco Cristian Fanesi Ha presentato la coalizione di centrosinistra e il programma elettorale Slogan Il futuro abita qui Una visione coraggiosa, dice Fanesi Che ha intenzione di vincere e lottare Affinché ogni cittadino veda realizzati i propri sogni C'è stata una grande partecipazione popolare questa mattina La presentazione della candidatura di Cristian Fanesi e del programma Cristian Fanesi è il candidato del centrosinistra Questo deve essere chiaro Di una coalizione che ha governato la città in questi dieci anni E che ha fatto crescere la città enormemente La città è cresciuta e vogliamo continuare a guardare la città Investendo sul futuro Non a caso lo slogan è Il futuro abita qui Ci sono tante cose da realizzare Dalle infrastrutture, agli impegni sulla sanità Che verranno chiesti con determinazione alla regione Gli investimenti sulla cultura, sul turismo Sulle scienze, anche sulla formazione Quindi una città che è cresciuta Con 250 milioni di investimenti E che continuerà a crescere con il centrosinistra E con Fanesi sindaco La partecipazione popolare questa mattina ci dà la forza Per continuare ancora con maggior determinazione Perché siamo certi che i Fanesi sceglieranno il centrosinistra Il partito democratico, la coalizione del centrosinistra Ma soprattutto Cristian Fanesi come futuro sindaco della città Ha presentato la coalizione di centrosinistra Il programma elettorale e le sue emozioni Sono tantissime le emozioni Questo pubblico, tante persone Amici, conoscenti, curiosi Mi hanno dato una grandissima emozione Sono davvero contento Sono tornato veramente a sorridere Perché siamo consapevoli Che questa città sceglierà in maniera consapevole Appunto il proprio sindaco L'8-9 giugno Siamo convinti di aver messo insieme una squadra eccezionale Di persone anche diverse ma complementari E persone che porteranno la loro qualità La loro esperienza La loro voglia di fare Fano una città orgogliosa Difende la sua identità Fano vuol continuare a crescere Fano vuol difendere la sanità pubblica A confronto di una regione che sta cercando di spostare Finanziamenti e professionalità Sulla sanità privata Noi difendiamo la sanità pubblica Lo difendiamo con orgoglio Perché Fano è una città che merita di crescere ancora E soprattutto il futuro abita qui Guardiamo con fiducia il futuro Guardiamo con fiducia alla nostra città E a tante persone che insieme a noi Possono costruire una città in futuro Più bella, più accogliente, più inclusiva È inaccettabile che la terza città delle Marche Sia coperta da una sola ambulanza Durante le ore notturne Il candidato sindaco della coalizione Progressisti per Fano 2050 Stefano Marcheggiani Invita le autorità competenti A prendere immediatamente provvedimenti Per risolvere questa criticità E dimostrare, ha detto, un reale impegno Verso la salute e il benessere dei cittadini L'assistenza sanitaria tempestiva In caso di emergenza Può fare la differenza A salvare anche vite umane Ma Marcheggiani A Fano di notte c'è una sola ambulanza? Sì, purtroppo la situazione nostra è questa Che c'è un'ambulanza che fa H24 Un'altra che invece assolve il servizio Solo nelle ore di urne E poiché sappiamo bene Che le nostre ambulanze Servono un territorio molto vasto Che riguarda anche i Colli al Metauro Terre Roveresche Pochi giorni fa sono arrivati a Monteguiduccio Quindi che succede di notte Quando l'unica ambulanza è così distante A un territorio così vasto In particolare alla città Che per un'ora e mezza, due ore Non c'è il servizio Quindi può fare la differenza tra la vita e la morte Quindi cosa si chiede? Si chiede ciò che Iesi Che Pesaro, che Ancona, che Senigallia hanno già Cioè due ambulanze con il personale Da non confondersi con il pur prezioso volontariato Che può essere assolto da convenzioni con croce rosso o altre croci Ma il volontariato è un personale che fa un altro mestiere Preparato ad alcuni bisogni elementari Quindi il trasporto, la dialisi per carità Quella è un'altra storia Qui serve proprio l'ambulanza con personale specializzato Sia nel ruolo dell'autista Che nel ruolo del medico e del paramedico Che possa appunto sopperire per fare un elettrocardiogramma Bloccare un infarto Quello serve per una comunità vasta come la nostra Una comunità, peraltro, voglio aggiungere Che è abbastanza inspiegabile Che supera di gran lunga i 50.000 abitanti Non ha una casa della salute Non ha una RSA Perché chiudono anche i 18 posti di RSA privata Della Canta di Montevecchio Diventano l'esigenza protetta E c'è un ospedale dove si investe nei muri Cosa che a noi va anche bene Ma non sappiamo con quali contenuti Quindi continuerà a appungolare le autorità competenti Per risolvere queste criticità? Il ruolo nostro è questo sicuramente Nel ruolo sia di consigliere che da sindaco Mi auguro Noi dobbiamo assolutamente rimettere in sesto Una comunità Che è una comunità marchigiana C'è una giunta regionale Che lavora in questo senso E abbiamo un consigliere regionale Che si candida anche al ruolo di sindaco Quindi inutile dire Che all'ospedale Santa Croce Ci sono specialità di primo Addirittura di secondo livello Come si va ripetendo negli ultimi giorni A parte che va contro il decreto Balduzzi E questo è impossibile Raccontiamoci le cose come stanno L'ospedale di Fano Negli ultimi 4 anni È stato spogliato di molte specialità Sta diventando un poliambulatorio E quello che si sta realizzando Se lo realizzeranno Questo nuovo ospedale di Pesaro Diventa un nuovo ospedale Unico più piccolo Di quello contestatissimo Ma gli effetti saranno uguali Se non cambiano le cose A Pesaro Fabrizio Liva Il quarto candidato sindaco L'ex presidente di APA Hotel Ha presentato la sua lista civica Denominata Spazi Liberi Il servizio di Marco Lunigro Nella corsa a sindaco di Pesaro C'è anche Fabrizio Liva L'albergatore ed ex presidente Dell'associazione pesarese albergatori Nel weekend ha presentato Spazi Liberi Una lista civica Dedicata alla promozione della cultura Dello sport, del coinvolgimento giovanile E dello sviluppo turistico Si tratta di una compagine Definita partitica, innovativa E formata da 29 persone Tra giovani, donne e imprenditori Rappresentiamo, dice Oliva Tutte le fasce della società civile Quali sono i temi che vi stanno più a cuore E se possiamo parlare anche di programma elettorale? In sintesi i programmi che ci stanno più a cuore Sono turismo, sport, cultura Sviluppo turistico e giovani Per quello che riguarda il turismo Io non voglio entrare nel merito Di quello che è stato fatto fino ad oggi Perché sapete insomma chi sono Quindi non c'è bisogno che parli Quello che voglio dire E che noi Per quello che riguarda il nostro programma Vorremmo fare una pesera più bella Una città accogliente Quindi lungomare nuovo E recuperare anche Levante Che per molti anni è stato bistrattato E abbiamo tra l'altro Levante Adesso anche il problema della bandiera blu E quindi è impellente nel nostro programma Mettere in mano sul discorso del Genica Che ha causato per tanto tempo Anche in materia di divieti di baldenazione Nel corso degli anni Questo problema Tra i temi anche cultura e integrazione territoriale La lista civica Spazi Liberi Propone di valorizzare i borghi Meno centrali Incentivando l'apertura di nuove attività Commerciali e culturali Così da rivitalizzare le aree spesso trascurate Siamo 29 candidati Tutti molto carichi E quindi faremo un buon lavoro per la città Se riusciremo a vincere le elezioni E poterla governare Ancora cronaca Un incidente si è verificato ieri Alle prime luci dell'alba a Pesaro Una Ford che procedeva ad alta velocità A lungo via Fastige Piombata nel dehors di una gelateria L'impatto è stato fortissimo Tanto da distruggere tre grandi fioriere Le tubature del gas e la segnaletica stradale Alla guida della vettura Un cittadino moldavo residente a Pesaro Che dopo il tremendo schianto si è dato alla fuga Sul posto i tecnici di Marche Multiservizi Per ripristinare la tubatura I vigili del fuoco e la polizia locale Che sta proseguendo le indagini Cambiamo argomento Nel quartiere Poderino a Fano È stato presentato l'evento Intitolato Pod Live Team Music Un concerto che si terrà il prossimo primo giugno E che vedrà protagonisti i ragazzi Dai 13 ai 19 anni Come cantanti, musicisti e organizzatori Questa è un'iniziativa molto importante per noi Dell'associazione Vivere il Poderino Volevamo trovare una forma di comunicazione Con i ragazzi che da tempo riempiono i parchi E le zone nostre del nostro quartiere Quindi avevamo pensato ad una manifestazione Dove i ragazzi potevano esprimersi Con il linguaggio loro più consono Magari con la musica E abbiamo organizzato questo Pod Live Proprio nel parco di Via Piemonte Dove abitualmente sostano tanti giovani E quindi far diventare protagonisti i ragazzi Sia con le loro canzoni Ma anche a livello organizzativo In più noi come associazione Entriamo proprio nel clou Del valore della nostra associazione Che è quella di cercare di diventare Una comunità educante Quindi prenderci tutti la responsabilità Di vivere insieme ai nostri ragazzi Di stargli accanto E di lasciarci anche cambiare da loro Ilenia ci puoi illustrare dettagliatamente Il programma di questa manifestazione La manifestazione si svolgerà il primo giugno Proprio in questo parco grande Inizierà più o meno verso le 17 E sarà proprio un vero e proprio festival Che si protrarà poi per tutta la serata Fino alle ore 23 circa Ma insomma indicativamente Ci saranno degli stand E risulta proprio un festival musicale Dove i ragazzi si esiberanno sul palco Sono ragazzi emergenti Alcuni proprio piccolini Da 13 anni fino ai 20 anni Avranno la possibilità di esprimere la loro dote Ma la cosa importante è quello che Cioè il messaggio è quello che comunque La possibilità di lanciare un messaggio Attraverso la musica Che è quello comunque della relazione sana E della condivisione degli spazi E soprattutto importante è che Anche nell'organizzazione i ragazzi hanno la stessa età Cioè ci sono ragazzi che hanno collaborato attivamente Sia alla realizzazione della locandina Sia alla realizzazione della parte dei social E quindi tutta la comunicazione dell'evento E la pubblicità dell'evento Marco siete a fianco di questo evento Un'iniziativa molto importante anche per voi Siamo contenti di essere a fianco Perché la cosa che ci è piaciuta molto di questo progetto È che non era un progetto per i giovani Ma fatto con i giovani E ci sembra che questo possa diventare un modello Per tanti quartieri Non solo per il quartiere Puderino Da zero a cento e oltre Si è svolta sabato scorso La giornata conclusiva del progetto Di educazione intergenerazionale Tra i residenti di famiglia nuova E i bambini dell'asilo nido Dire, fare, giocare L'idea partita ormai quattro anni fa Ha come obiettivo quello di avvicinare Due realtà che possono sembrare Apparentemente così distanti Ma che al contrario sono estremamente vicine Quella degli anziani e dei bambini Insieme più di un anno fa Avevano piantato dei semi Nei locali del centro per l'infanzia E oggi dopo diversi incontri Ne hanno raccolti i frutti Questa iniziativa è nata anche dal desiderio Di coinvolgere il più possibile le famiglie Creando momenti preziosi di condivisione E di scambio di abbracci e di sorrisi Sono circa 13.000 gli studenti marchigiani Che hanno partecipato a Miele a Merenda Dal progetto dei quattro consorsi apistici Della Regione Marche Rivolto alle scuole primarie In occasione della giornata mondiale delle api Che si celebra oggi Le scuole hanno previsto un momento formativo sulle api In particolare sull'importanza del ruolo di impollinatori Sulle tipologie di miele E sul loro utilizzo I consorsi hanno fornito alle scuole partecipanti Un video didattico che racconta la vita delle api E un libretto illustrativo Delle principali tipologie di miele marchigiano Che racconta le tappe del percorso dei consorsi apistici Uniti sotto un unico marchio Con l'obiettivo di promuovere i miele marchigiani E divulgare l'importanza del ruolo ambientale Agricolo, occupazionale e sociale dell'apicoltura Inoltre il progetto Finanziato da un bando regionale Ha previsto la distribuzione in tutte le scuole Del miele e millefiori Chiuso in bustine monodose Che ogni bambino ha potuto spalmare sul pane Per una sana e gustosa merenda E passiamo allo sport con la promozione Della Smart System in Serie A2 Mentre ci colleghiamo con il giornalista Andrea Maduzzi Vi mostriamo alcuni momenti di questo sogno Che si è realizzato Merlo Arriva Iorno Attenzione a Umech Muro A promozione Vanina 2 Vanina 2 Vanina 2 Venite qui Vanina 2 Vanina 2 Vanina 2 Vanina 2 Vanina 2 Vanina 3 Vanina 3 Vanina 3 Vanina 3 E come anticipato siamo in collegamento con Andrea Maduzzi. Andrea buonasera, dunque momenti abbiamo visto di grande gioia e di entusiasmo che coronano questo sogno, questa promozione attesa da ben 23 anni. Buonasera a voi, comprensibile l'entusiasmo per un risultato appunto atteso da 23 anni, 23 anni fa l'addio alla 2 che era stata conquistata 33 anni fa. La Virtus ha pazientemente ricostruito in questi due decenni abbondanti ma soltanto nelle ultime due stagioni ha messo nel mirino la 2 dopo aver conquistato la 3 appena 4 anni fa, curiosamente nello stesso giorno il 18 maggio. E' arrivato questo risultato a Sant'Ona a coronamento appunto di una stagione che ha vissuto anche di contraddizioni, l'avvicendamento in panchina fra Paolo Tofoli e Vincenzo Mastrangelo, l'opposto che è stato cambiato due volte. Si era partiti con Gonzales che non ha potuto partecipare a questa avventura per problemi fisici, poi Mikalovic a sua volta avvicendato da Dimitrov, una squadra che ha avuto difficoltà in trasferta ma che in casa è stata assolutamente devastante. La Virtus ha sempre vinto tranne la finale di Coppa Italia con Palmi e su questa sua inviolabilità casalinga ha costruito in pratica le sue fortune anche nei play-off, comunque una stagione in crescendo perché negli ultimi mesi davvero la Smart System ha concesso poco agli avversari. Domani sera la Smart System sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Sportissimo e poi festeggiamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni. Esattamente, domani in Sportissimo, largo spazio come era doveroso a questo evento, avremo in videocollegamento l'allenatore Vincenzo Mastrangelo, in studio il direttore sportivo Mattia Brunetti e il capitano Mattia Raffa, ci sarà anche qualche sorpresa che non anticipiamo, quanto invece i festeggiamenti ufficiali o in forma così più informale, venerdì sera appuntamento alla cooperativa Tre Ponti con tutti i tifosi, poi nuovo happening l'indomani al Palace Allende, qui il programma ancora da definire ma sarà reso noto credo nei prossimi giorni. Andrea, grazie per questo collegamento e buon lavoro. Grazie a voi. E grande festa anche allo stadio Tonino Benelli, la Vispesero nei play-out ha vinto per 4-3 contro l'Areca Natese grazie alla rete di Pucciorelli nei minuti finali della partita. Con il successo di ieri i bianco-rossi hanno ribaltato la sconfitta dell'andata e conquistato la permanenza nel campionato di Serie C. Al triplice fischio del direttore di gara, come vedete dalle immagini, esplosa la festa bianco-rossa con l'invasione di campo dei tifosi pesaresi. E ora i programmi di Fano TV, vi ricordo che domani martedì alle 18.45 torna su Fano TV The English Channel, il programma dedicato ai più piccoli per imparare l'inglese giocando. Subito dopo di noi invece le previsioni del tempo e a seguire una nuova puntata di Occhio al Voto, che vedrà protagonisti Barbara Brunori per il centro-sinistra, Mattia De Benedittis per i progressisti e Davide Del Vecchio per il centro-destra. Seguirà la replica di uno speciale dedicato alla presentazione della lista elettorale del PD di Fano. Vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia, dunque rimanete sintonizzati sul canale 19 di Fano TV. Buona serata. Grazie a tutti.